Musica Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo unboxing di Loot Aspetta, c'è, aspetta, ma l'obiettivo è di lì, non di lì Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo unboxing del Loot Chest Che cos'è il Loot Chest Matreus? Una scatola dove troviamo dentro altre cose divertenti Esatto, come al solito io sono un maruso, quindi com'è? Ci sono io, Matreus Matreus, benissimo Matreus Dacci la scatola, dov'è la scatola Matreus? Porgimi la scatola, eccola qua, la scatola del Loot Chest Fantastico amici, benissimo Matreus, iniziamo il fottuto unboxing Vai Ok Matreus, iniziamo dunque Eh no, passami i pezzi Matreus, che cavolo stai facendo? Passami i pezzi Matreus Iniziamo dal primo Il solito manuale Adesso lo facciamo vedere bene Vedete? Con scritto februar 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 Vedete che sarebbe tipo febbraio Anzi, senza tipo È febbraio In realtà Non lo guardare Ma lo guardo un attimo Questo qua lo vedi? Lo vedi questo? Lo vedi questo? Adesso non lo vedi più Vai con il prossimo Iniziamo subito Con una cartolina Direttamente dalla terra di mezzo amici Una cartolina Ve la faccio vedere Guardatevi Copro esattamente l'inquadratura se riesco Guardate qua Scusate il riflesso Ma ovviamente è lucida Ed è appunto del middle of heart Cioè la terra di mezzo Quindi ispirata al signore degli anelli Questa si può spedire Si può appendere Si può fare qualsiasi cosa Chissà chi la darò Non si sa Vai col prossimo Matreus Ok Allora abbiamo Azz Abbiamo qua i pop rocks Vediamo se riesco a metterlo a fuoco Il pop rocks Guardate qua E Matreus Prende la tua faccia Eccolo qua Il pop rocks Vedete? Fantastico Il pop rocks Ha il gusto cola Che sono quelle cose che Scoppietta Non sa bene Quella la mia Proviamole Proviamole Matreus Proviamole Perché qua Ha il gusto cola Cola È uscito un po' di polvere Ci vedete amici se Guardate Ok Un po' È giusto così È buono È buono Sentite Eh Ok questo per dirvi cosa È buono eh Va buono Me lo tengo io Sa di Sa di Sa di biacciolo acqua da cola Guardate Ad esempio Vai Matreus il prossimo Dopo questa prelibatetta Vai Abbiamo Questo è bello Del genere Un mega doblato Un Qualcosa Vediamo un po' In metallo In metallo Cioè Matreus Solita testa Io copro la mia qua E lui adesso metterà È a fuoco Metti a fuoco Ecco qua guardate Questo è la Davanti Davanti qua Una moneta quindi E questo è il retro Su Star Wars Assolutissimamente in metallo Ed è tipo una moneta Carino Carino Piccolo gadget Che so già a chi dare Quindi Poi abbiamo ancora un pezzo Un pelo più grosso Mio Bello Bello Qua abbiamo direttamente Direttamente dai griffin Chiamati anche Family Guy Il vero nome è questo Vedete Fantastico Ed è un bicchiere per la birra Matreus Che cavolo te ne fai Perché te lo utilizzi Si No è da collezione E guardate All'interno non c'è niente Meno male che non si è rotto Guardate Fantastico 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 Pull my finger Tira il mio dito Ovviamente per la scoreggia Comunque amici Fantastico dei griffin Eccetera eccetera E questo Finirà la No sto scherzando Pensavate che ho lanciato In realtà no In realtà non l'ha lanciato Questa qua Non l'ha lanciato Adesso si Vai col prossimo Matreus Questa qua Te la lascio Questa qua me la lascio a me Vediamo una maglietta Ecco qua guardate la maglietta Guardatela Guardate la fottuta maglietta Mentre Matreus mangia Ok Maglietta Guardate qua Mentre Matreus è lì che Sciccetta Sciccetta Comunque la maglietta È di Mad Max Giusto Matreus Guardate ovviamente Bella E la aggiungerò Alla mia fottuta collezione Che ovviamente poi Amici Quando arriverà l'estate Ci vedremo con magliette Sempre diverse Ma credo la prossima Non so cosa sia Questo qua è mio Abbiamo una roba lattosa di Batman Andiamo a vedere subito È un salvadanaio Sì è un salvadanaio Perché guardate Questo è il culo del salvadanaio Questo è il buco Qua c'è Poi fate così Tac Ed eccolo qua Sopra c'è la fessura Il salvadanaio molto bello Di Batman Veramente molto bello Questo me lo terrò Io non sto scherzando Vediamo Matreus Come al solito Matreus Si prende tutto Praticamente Del loot chest quasi Ma andiamo avanti Matreus E siamo alla fine quasi Quasi È l'ultimo È l'ultimo Abbiamo Sempre in tedesco Sempre in tema Marvel Questo invece è DC Comics Quindi perché ho detto Sempre Non c'entra un cavolo Questo è DC Comics Marvel abbiamo Deadpool Ovviamente 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 Giusto perché L'italiano fa schifo a tutti Ce l'abbiamo In tedesco In tedesco Quindi questo qua Sarà da reciclare Con qualcosa Con qualcuno Però è a colore Figosissimo Se fosse stato in italiano A me questi fumetti qua E a colore così Piaciono di brutto Sì Vi faccio vedere I disegni Proprio È una roba Veramente Veramente bella 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 Peccato 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 che sia In una lingua A me è quasi incomprensibile A me è proprio incomprensibile Però veramente Veramente molto bello Detto questo amici Siamo alla fine di questo Loot chest E Matreus Vuoi dire qualcosa Vuoi No Non vuoi dire niente Perfetto Quindi il salvataneo che mi terrò È fantastico No Eh Questo è tuo Questo puoi buttarlo Amici Mi raccomando Ci vediamo al prossimo fottuto video Del loot chest E qualsiasi altro video del canale Mi raccomando Ricordatemi Come sempre Le regole Basilari Basilari Del canale Che sono Lasciare mi piace Con il video Iscriversi Lasciare un commento Bravissimo Dove Condividere Bravo Su Facebook Twitter Whatsapp E Telegram Telegram Qualcuno lo usa Ma Tra un paio di anni Magari verrà più diffuso Il Whatsapp Però no E basta E basta Ma amici Fatelo vedere ai vostri amici Alle vostre amiche Mandatelo nella chat comune Che avete sicuramente Insomma Sapete cosa fare Detto Questo Da Amor Rouge E Da Matrix Ci vediamo al prossimo fottuto video Amici Ciao a tutti Ciao Ciao a tutti